Ciao a tutti! Ciao! Oggi andiamo a trovare i nostri amici Alice e Leone perché la loro gattina Thea cosa ha fatto? Ha fatto i cuccioli! Sì, ha fatto i cuccioletti! Oggi li andiamo a conoscere e a coccolare Andiamo, andiamo, andiamo! Mamma, secondo te come saranno carini? Saranno stracarini! Siamo arrivati! Sì! Andiamo a conoscere i gattini! Sei contenta? Sì! Eccoci, siamo arrivati! Vieni Alice! Allora, la culletta qui è vuota, li dobbiamo trovare! Qui ce ne sono due! Oh, che batuffolo! Eccolo è uno lì dietro! Oh, lei è Thea, la mamma! Ciao Thea! Siamo venuti a conoscere i tuoi bambini! Loro sono Tosca e lei è Milla! Ma lei è bellissima! Vediamo Tosca! Oh, infatti sono tutti bellissimi! Mamma, mamma, questi sono degli scottish fold! Oh, caulissimi! Loro sono degli scottish fold! Vedi che hanno le orecchie piegate! Invece, loro sono strite! Perché hanno le orecchie dritte! Guarda come giocano! Lì, c'è le vesti con le orecchie, anche qua! C'è un po' cuinno! Lui, il sotto della zampa! Lui, è lungerissima! Un po' cuinno! ma quanto state impazzendo e guardate papà guardate questo gatto per niente bello no per niente solo stupendo sai quanto anno questi gattini adesso 40 giorni ma lei una coccolona proprio tanto tanto è ed ecco lì c'è la padroncina ma lei è una piccolina guarda qui lei è la più piccola non sai che lei è salita in braccio da sola lei vuole bene a tutti è super dolce qual è il tuo preferito tosca tu dove vuoi andare dove vuoi andare ecco si è accomodata qui lotta in corso bravo dobbiamo andare saluta i gattini ciao piccolini ciao ciao piccolini ciao 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 a tutti ciao ciao Grazie a tutti.